Lo scorso sabato sono stato ospite della Magnifica Comunità del Cadore del Gruppo Archeologico Cadorino per una conferenza sulla storia del Cadore Preromano. Purtroppo la registrazione dell'intervento non è andata a buon fine, però io ho voluto comunque riproporre la conferenza sia per condividerla sul canale YouTube, sia per ringraziare nuovamente il Gruppo Archeologico e la Magnifica Comunità per l'opportunità che mi hanno offerto. Ora, la storia del Cadore Preromano è molto complessa e questo perché il dato letterario a riguardo è molto scarso, ci si deve basare principalmente sul dato archeologico e questo porta a un profilo storico pieno di punti interrogativi e di zone d'ombra. In realtà però secondo me il punto più cruciale è proprio l'ottica con la quale si vuole inquadrare la questione. Cambiando prospettiva, secondo me incrociando il dato archeologico con quello storico, si può riuscire a ricavare un profilo del Cadore Preromano molto più articolato e molto più approfondito di quanto ci si potrebbe immaginare. Ora per prima cosa dobbiamo considerare che il Cadore è una zona di confine. Già prima della grande calata gallica della seconda metà del quinto secolo avanti Cristo il Cadore si trova in una zona cerniera tra due culture, quella dei Veneti e quella dei Reti. Per quanto riguarda la cultura retica, se ci basiamo sui dati letterari dei classici, il quadro che emerge è sicuramente molto particolare. Secondo Plinio Pompeo Trogo ad esempio i Reti erano i discendenti di Etruschi che guidati dal principe Reto erano fuggiti dalla pianura padana all'arrivo dei Galli e si erano rintanati sulle montagne, sull'arco alpino, dove si erano imbarbariti, dando così vita alla cultura dei Reti appunto. Secondo Monsen in realtà questo paradigma andrebbe invertito e non bisognerebbe immaginare i Reti come degli Etruschi imbarbariti, ma semmai gli Etruschi come dei Reti civilizzati, cercando appunto di immaginare la cultura etrusca come irradiata da un contesto mitteleuropeo, un contesto alpino e poi giungendo in pianura prendere maggiore complessità. In realtà al giorno d'oggi se vogliamo inquadrare le ultime scoperte e le ultime analisi relative al mondo retico probabilmente dobbiamo immaginare una cultura locale, il prosieguo naturale della cultura di Luco Meluno datata tra il XIII e il VII secolo a.C., che a seguito dell'innesto di elementi etruschi in chiave aristocratica, elementi di un'aristocrazia mercantile e soprattutto culturale, si sia così appunto arrivati alla nascita di una cultura nuova che era legata in parte a quella etrusca ma altrettanto aveva a che vedere con le precedenti culture, o meglio la precedente cultura, quella di Luco Meluno, dell'arco alpino. La cultura retica si divide in diverse frazioni, diversi sottogruppi, il principale è il gruppo Fritzen-Sanzeno, poi abbiamo il gruppo Magrè che è strettamente in contatto con il mondo venetico, il gruppo della Val Camonica che è quello relativo appunto ai Camunni e ai Triumplini, e il gruppo della Valle del Reno che comincia ad avere dei contatti già più serrati con la realtà Leponzia, con il mondo celtico. Per quanto riguarda il Cadore noi non abbiamo in realtà una profonda e marcata presenza retica. Va detto che Plinio attribuisce ai reti tre centri, Trento, Feltre e Berua. Noi non siamo ancora riusciti a identificare Berua e se alcuni per un certo lasso di tempo hanno provato a far coincidere Berua con Belluno, proprio sulla base delle divisioni delle tribù romane, delle divisioni amministrative del mondo romano successive, oggi in realtà sappiamo che molto probabilmente l'equazione di Berua con Belluno non è assolutamente affidabile, non è da prendere in considerazione. Quindi Berua come centro rimane un mistero, secondo alcuni potrebbe essere Montebelluna, comunque sicuramente non è probabile che fosse Belluno. A questo punto quindi effettivamente la presenza retica sul territorio cadorino è decisamente frammentaria. Noi la notiamo per una serie di piccoli elementi archeologici, ad esempio dei frammenti ceramici, ce ne sono ad esempio ritrovati nella zona che è stata investigata dopo la dilavazione di Montericco, oppure un altro elemento sicuramente da collegare al mondo retico è la famosa chiave retica di Cimagogna. Ora, la presenza di una chiave retica ha evidentemente a che vedere con un edificio, se c'è una chiave c'è una porta, se c'è una porta c'è una casa, e se c'era una casa di tipo retico è altrettanto probabile che vi fosse un complesso insediativo con case di tipo retico. Bisogna però essere molto cauti a considerare questi aspetti, appunto i pochi ritrovamenti ceramici, la chiave di Cimagogna, come un indicativo effettivo di una presenza retica importante sul territorio. Dobbiamo considerare che l'adesione a dei modelli specifici di cultura materiale non implica necessariamente un'effettiva appartenenza culturale. Noi potremmo semplicemente avere a che fare con un contesto propriamente indigeno che si ispira a alcuni modelli di cultura materiale del mondo retico, se non altro per vicinanza, li fa propri, ma non per questo siamo davanti a una vera e propria marcata presenza retica. D'altra parte le case retiche sono case di tipo alpino che si ritrovano bene o male in una grossa porzione del nostro arco montuoso e che si ritrovano perché sono un modello che è efficace relativamente al contesto ambientale, quindi non sono strettamente, potremmo dire, espressione imprescindibilmente eretica. Quindi appunto siamo davanti a un quadro che è dubbio, che può sottintendere un'effettiva presenza retica oppure semplicemente l'adesione di modelli di cultura materiale di tipo retico. Questo perché sicuramente, questo noi lo sappiamo dal dato linguistico, il cadore è a pieno diritto, sebbene in frizione in contatto con il mondo retico parte del mondo venetico, molto velocemente chi erano i veneti. Ora il mito dei veneti è molto interessante, i veneti secondo Catone, Plinio, Livio, Virgilio, molti autori classici, erano i discendenti del popolo degli Enetoi che venivano dalla Paflagonia, gli Enetoi provenienti dalla Paflagonia, una regione della Turchia, l'odierna Turchia all'Anatolia settentrionale, lungo le coste del Mar Nero, avevano combattuto, secondo il mito, a fianco dei troiani durante la guerra di Troia contro gli Achei, guidati dal loro re Pilemene. Pilemene però sarebbe morto durante la guerra di Troia, al che gli Enetoi avrebbero chiesto a un condottiero troiano, il saggio Antenore, di diventare il loro signore. Alla caduta di Troia Antenore avrebbe guidato gli Enetoi attraverso il mare fino nel nord-est dell'Italia, dove avrebbe fondato la città di Patavium, Padova, e avrebbe strappato le terre intorno appunto al sito, che poi sarebbe diventato quello di Padova, alla popolazione indigena, quella degli Euganei. Ora questo mito è molto curioso, perché evidentemente se per certi versi nasce per giustificare un profondo legame di alleanza tra il mondo venetico e quello romano, che possiamo datare grossomodo agli scontri tra romani e celti che si coronarono con la battaglia di Talamone, d'altro canto però probabilmente non in maniera lineare ma in maniera trasversale ha un grano di verità, non perché i Veneti venissero dalla Paflagonia venissero dall'Anatolia, ma perché effettivamente tra romani e Veneti c'era un punto di contatto, e non perché i romani erano idealmente discendenti di Enea e gli Enetoi idealmente discendenti di Antenore, ma perché entrambi i popoli fanno parte di un unico macro gruppo linguistico, quello latino falisco, che cala in Italia grossomodo intorno al XIII secolo a.C., un gruppo linguistico, un macro gruppo linguistico che porta alla definizione di tutta una serie di popolazioni dell'Italia antica, i Veneti appunto, i Latini, i Falisci, gli Ausoni, i Siculi, un gruppo che poi sarebbe stato seguito successivamente, il secolo successivo, da quello propriamente detto italiano italico, quello degli oscombri. Comunque di fatto se il mito di Antenore e della provenienza troiana, asiatica, anatolica dei Veneti è probabilmente tale appunto mito, quindi non realtà, comunque un rapporto, un contatto tra il mondo venetico e quello romano, per lo meno su base ancestrale e linguistica, c'era. La cultura testina, che è quella propria del mondo venetico, si sviluppa comunque intorno al IX secolo a.C. e ha tra le sue città principali Patavium, della quale abbiamo appunto già parlato, la cui fondazione era attribuita all'eroe Antenore, Altino, o Pitergium, o Derzo, e soprattutto Ateste, lungo il corso dell'Adige, perché all'epoca l'Adige aveva un corso diverso. Este, Ateste appunto, era uno dei suoi centri principali della cultura apestina. Ora, osservando la cultura venetica, torniamo nuovamente a trattare di quella questione della quale abbiamo accennato parlando degli elementi eretici presenti in area cadurina. Da un punto di vista strettamente materiale, la cultura venetica sembra aderire a un altro macrogruppo culturale, che è quello della cultura di Hallstatt. Ora, la cultura di Hallstatt è convenzionalmente considerata celtica o proto-celtica, ma va detto che in realtà elementi della cultura materiale hallstattiana noi li ritroviamo in ambito illirico e in ambito venetico, e anche in ambito etrusco-padano, quindi non solo in ambito celtico. Quindi siamo di nuovo davanti a una realtà relativa a una cultura materiale il cui sviluppo, la cui espansione, la cui estensione non coincide necessariamente con l'adesione a una specifica cultura etnica, a uno specifico etnos. Di fatto la cultura testina per certi versi si farà vettore di certi elementi della cultura materiale hallstattiana, in particolare l'artigianato relativo alle situle. Avremo dalla cultura testina un irradiarsi della cultura delle situle, dell'arte delle situle, presso l'Etruria padana, presso il mondo illirico, e di ritorno presso i celti arstattiani. Quindi ecco nuovamente come una cultura materiale non coincide necessariamente con uno specifico gruppo etnico, ma anzi al contrario va a coprire diversi gruppi etnici, perché sono diversi etnos che decidono di acquisire questi elementi relativi a una cultura materiale che trovano gradevoli, utili, efficaci, piacevoli. Da un punto di vista strettamente linguistico il Cadore mostra in età preromana, come ho detto in precedenza, un'adesione potremmo dire totale al mondo venetico. Noi lo sappiamo appunto da tutta una serie di dati epigrafici, di iscrizioni sia su pietra sia su ex voto metallici, parleremo anche di questi, che ritroviamo nell'area. Quindi, come abbiamo già detto ampiamente, una realtà di confine, una realtà di frizione tra il mondo venetico e il mondo eretico, con presenza di alcuni elementi di cultura materiale eretici, ma senza ombra di dubbio l'impronta linguistica che ha il Cadore, stiamo parlando appunto dell'età preromana, è un'impronta venetica. Una grande importanza nel Cadore venetico la hanno i santuari. I santuari hanno un ruolo preminente poiché hanno la funzione di polo accentratore, di far incontrare i diversi elementi delle comunità dell'area Cadorina, di farli confrontare in occasione probabilmente di festività, di ritualità, che aiutavano a costruire lentamente un'identità tra tutte le popolazioni, tra tutte le realtà, tra tutti gli insediamenti che costellavano il Cadore, che comunque abbiamo detto in questo momento dal punto di vista linguistico sono di tipo venetico. Ora questo è un dato molto interessante, l'importanza dei santuari, perché trova dei paralleli in altri ambiti culturali. Noi abbiamo altri ambiti che sono prettamente montani, e qui forse si può trovare un parallelo sempre con le dovute cautele, portando avanti dei ragionamenti che sono ipotetici sicuramente, dicevo ecco in comunità che sono montane, di aree montane, in realtà in culture che sono di aree montane, troviamo delle situazioni che sono analoghe. Ad esempio se pensiamo ai Sanniti, che vivono nel Sannio tra Abruzzo e Molise, un'area molto montagnosa, se effettivamente le fonti classiche parlano di un centro cittadino prominente, Aquilonia, questo accade molto tardi. Da un punto di vista archeologico il dato molto marcato che troviamo è relativo a un santuario, che è quello di pietra abbondante, che mostra essere effettivamente il punto più importante, da un punto di vista culturale, ma anche appunto di evidenze archeologiche, del mondo Sannita. Allo stesso modo mi viene da pensare al Koinon Arcade, una realtà della Grecia, precisamente dell'Arcadia, una regione molto montagnosa che di nuovo in futuro arriverà a creare una sua città, un suo centro urbano preminente, ma inizialmente comincia ad aggregarsi, comincia a crearsi, comincia a costruirsi intorno a un centro religioso, che è il santuario di Zeus Lycaios, sul monte Liceo. Ecco, allo stesso modo il mondo cadorino sembra avere come punti di riferimento, come punti che archeologicamente danno i dati, offrono, restituiscono i dati più importanti, ecco come punti di riferimento le aree santuariali. In particolare abbiamo due santuari molto interessanti. Uno è il santuario di Monte Calvario, presso Auronzo, che mostra dalle evidenze archeologiche che sono emerse che è stato frequentato fino in età tardo-imperiale romana, quindi un santuario che nasce sicuramente prima della romanizzazione, questo è al di là da ogni dubbio e al di là delle specifiche evidenze archeologiche, ma adesso spiegheremo perché, e che continua a essere frequentato fino alla tarda età imperiale. Monte Calvario è un esempio perfetto della natura dei santuari, una natura che portava le comunità circostanti ad essere magnetizzate, a confrontarsi e a creare un'identità. A Monte Calvario noi abbiamo tutta una serie di testimonianze relative all'uso della scrittura venetica, per gli ex voto, che continua anche dopo la romanizzazione. Quindi si tratta di una realtà evidentemente fortemente identitaria, legata al mondo venetico cadorino, che mantiene una sua forte connotazione indigena. Un altro dato molto interessante, e da qui appunto si può dire che Monte Calvario è rappresentativo dei santuari, Monte Calvario non è solo punto di aggregazione per le comunità circostanti ed identità culturale tramite l'uso della scrittura venetica, ma è anche punto di irradiazione. Noi sappiamo dai dati archeologici ricavati relativi all'epoca romana di Monte Calvario che Monte Calvario era un centro che era frequentato da diverse realtà del mondo militare romano, che erano quindi proiettate verso nord, verso il Limes, verso l'Europa centrale. Ecco, secondo alcuni forse lo sviluppo di una scrittura presso il mondo germanico, quella che diventerà la scrittura proto-runica potremmo dire, poi runica propriamente detta, ecco lo sviluppo di questa tipologia di scrittura deve proprio a quanto avviene a Monte Calvario, dai contatti di Monte Calvario con l'Europa centrale, quindi il runico che non nasce come si era pensato in precedenza dall'alfabeto retico, ma forse il runico che nasce dall'alfabeto venetico, ispirandosi all'alfabeto venetico. Un altro santuario di grande importanza del Cadore è Santuario di Lagole di Calalzo, che era dedicato a una divinità a nome Trumusiate, Sainate, una divinità della salute legata alle acque. Il nome di Trumusiate non è stato ancora sciolto, non è stato ancora interpretato in maniera univoca, si è provato a leggere nel tru iniziale il riferimento a una divinità trimorfa, ma di questo non siamo assolutamente certi. Siamo certi però che la seconda parte del nome, il Musiate, è relativo alle acque, alle acque stagnanti, alle acque palustri, ma delle acque che sono riconosciute come sanificatrici, tant'è che Trumusiate è stato interpretato dai Romani come Apollo, come l'Apollo guaritore, quindi siamo davanti a un santuario dedicato a una divinità della salute e della guarigione. Un elemento molto interessante che si evince dai dati archeologici di Lagole, dagli ex voto che sono stati ritrovati a Lagole, è che se sicuramente le scritte su questi ex voto sono in alfabeto venetico e in lingua venetica, spesso gli officianti, spesso a volte gli ufficiali non erano propriamente veneti, ma appartenevano a un'altra cultura, a quella celtica. Abbiamo infatti diversi nomi di origine celtica che compaiono tra le persone che dedicano degli ex voto alla divinità di Lagole. Abbiamo un Broghio, abbiamo un Resunco, e si tratta di nomi appunto che non sono assolutamente venetici, ma sono nomi di origine celtica. Va detto che nel Veneto abbiamo diversi casi analoghi, abbiamo dei casi di questo tipo ad esempio a Vicenza, abbiamo dei casi analoghi anche nella stessa este che era centro del mondo venetico della pianura, quindi l'idea di singoli elementi celtici che entrano a far parte del mondo venetico e in qualche modo vengono naturalizzati, vengono assimilati dalla realtà venetica, non è qualcosa di così particolare. Vedremo però che successivamente nel Cadore la presenza venetica vedrà un avvicendarsi di una presenza celtica man mano sempre più importante. Molto velocemente parlando dei celti cosa possiamo ricordare? La cultura celtica di Latène, che è quella che ci interessa, è quella propriamente gallica, nasce nel V secolo a.C. e nasce sempre all'interno del macrogruppo della cultura di Alstadt, della quale abbiamo già parlato in precedenza, quella cultura materiale che abbiamo detto in parte era stata acquisita e reimmaginata e poi riproiettata dal mondo venetico. Ora intorno al V secolo a.C. cosa succede? Nell'ambito della cultura di Alstadt, ma in particolare della sua frazione occidentale avviene un cambiamento, probabilmente a causa di contatti con le steppe dell'Eurasia, forse a causa di contatti con il mondo scitico, non lo sappiamo. In ogni caso cambia la struttura sociale. Se precedentemente il mondo alzatiano era stato gestito da singole figure di re sacerdoti che comandavano le comunità, ora guardando le sepolture che cominciano a comparire nel V secolo noi vediamo una pluralità di individui con dei corredi ricchi, non più un singolo individuo con un corredo prominente. Oltretutto questi corredi sono evidentemente smaccatamente con un'impronta militare, quindi dobbiamo immaginarci il sorgere di una sorta di aristocrazia plurima di guerrieri. Questo porta a una frammentazione ovvia del potere centrale e a una maggiore fluidità ma anche instabilità politica del mondo alzatiano occidentale, che porta conseguentemente a una gemmazione e a una esplosione, potremmo dire, del mondo celtico ora lateniano, dal centro di Latenna, dove iniziamo a vedere per la prima volta questa evoluzione culturale, in tutta Europa. Come si espandono i Celti? I Celti si espandono probabilmente a seguito di frammentazione, come abbiamo già detto, della comunità durante gli albori della cultura di Latenna, e il movimento di queste piccole bande armate dirette da figli cadetti, elementi dell'aristocrazia che vengono allontanati o che semplicemente di propria sponte si allontanano perché vogliono cercare dei luoghi propri per esprimersi al meglio, per esprimersi a pieno, e che appunto cominciano quindi a vagare per l'Europa, a diffondersi a macchia d'olio e a trovare delle realtà dove insediarsi, delle realtà che evidentemente però, per forza di cose, nella maggioranza dei casi erano già abitate. Comunque la testimonianza archeologica di queste piccole comunità militari che si spostavano, migravano e poi si stabilivano all'interno di territori stranieri cercando un ruolo preeminente, noi l'abbiamo in Veneto ad esempio con un sito molto interessante che è il sito di Montebello Vicentino, che è un sito celtico latenne datato alla seconda metà del V secolo a.C., nel quale abbiamo quindi attestazione che già in epoca remota, quando la cultura latenne sta proprio germogliando, sta cominciando a germogliare, già abbiamo bande guerriere celtiche che si sono staccate dai loro luoghi d'origine e sono andate ad insediarsi in Italia settentrionale. Ora, parlando dei celti nel cadore, noi abbiamo attestazione di una loro presenza importante che supera quindi la presenza di singoli individui inseriti e naturalizzati nella realtà benetica, come testimoniato dai reperti di Lagole. Ecco, noi lo abbiamo dalle epigrafi romane, che chiaramente trattano di una realtà successiva, ma che fanno riferimento a quel cadore che si sta romanizzando, ma che i romani hanno trovato durante la loro espansione. La popolazione del cadore viene chiamata, nelle poche epigrafi romane che ne trattano, catubrini, catubrini da cui appunto cadore. Abbiamo sempre parlato di cadore fino adesso, ma forse sarebbe stato più corretto parlare di cadore ante litteram, perché il cadore prende il nome da questa popolazione, i catubrini, che sono una popolazione celtica, che giunge in cadore, per dargli il suo nome, probabilmente durante il III secolo a.C. Ora, a Valle di Cadore noi troviamo un epigrafe che fa riperimento a una gens romana dei Saufei, che faceva parte della tribù Claudia. La tribù Claudia era presente sia nel bellunese, sia presso Iulium Carnicum, Zulio. Stiamo parlando chiaramente di un momento nel quale tutta quest'area è già romanizzata. Ecco, questo però, una parentela dei distretti votanti romani, che lega Iulium Carnicum, Zulio quindi, al Cadore, insieme all'analisi di tutta una serie di reperti di III e II secolo a.C. ritrovati in area cadorina, che sono evidentemente legati al mondo dei galli carni, fa pensare che i catubrini fossero una filiazione celtica proveniente non da occidente e quindi dalla Gallia transalpina, dall'ovierna Francia, come i galli cenomani, i celti del Veronese, del Bresciano e quei celti che poi usano il fiume Adige come canali di penetrazione per innestarsi nel Veneto, ma che i catubrini fossero una realtà proveniente da Oriente, una filiazione dei galli carni appunto, quei celti che risiedevano nella Carnia e che a loro volta erano prodotti di tutta una serie di movimenti di popoli e di movimenti politici anche del norico, una realtà che comprende parte dell'Austria e delle aree settentrionali dell'ex Jugoslavia. L'origine del nome dei catubrini è molto interessante. Si tratta di un nome celtico sicuramente, che è composto da due particelle. Sulla prima particella non v'è dubbio, catu è una parola celtica che significa battaglia. Ora la tesi che va più per la maggiore relativamente all'origine del nome catubrini vorrebbe una nascita da catu, battaglia più briga, collina. Catu, briga, che andrebbe a significare quindi catubrini gli abitanti del colle fortificato oppure gli abitanti del colle della battaglia. Alcuni hanno provato a identificare questo colle fortificato, colle della battaglia, con l'abitato di Montericco. Ora di Montericco noi in realtà sappiamo molto poco, sappiamo che probabilmente era un castelliere e sappiamo da dei materiali dei quali vi ho parlato all'inizio quando abbiamo accennato alla questione dei reti, sappiamo appunto da questi materiali che sono ceramica di tipo Frizz e San Zeno che era un'area però appunto legata più che altro al mondo retico che al mondo celtico. Ora però appunto la situazione archeologica di Montericco è molto difficile da esaminare poiché si tratta di una realtà che ha subito moltissimi interventi, quindi è un quadro molto molto dubbio. Va detto però che ad oggi la tesi che è più conosciuta, che è più abbracciata, è quella che vorrebbe Catubrini derivare da Catubriga. Va detto però che potrebbe essere anche un'altra interpretazione. Catu, sempre battaglia, più brigo, valore, vigore, quindi i Catubrini sarebbero i valorosi combattenti. Da un punto di vista etimologico c'è però un particolare che mi preme sottolineare. Il nome che noi ritroviamo nelle epigrafi romane è quello di Catubrini, non di Catubrighi, e a questo punto dobbiamo immaginare o che questa gidura, questa gutturale, sia caduta nel passaggio dal gallico al latino, oppure che la seconda parte del nome Catubrini sia da ricercare altrove, non in briga o in brigo, ma in un'altra parola gallica, brinos. Brinos è una parola gallica ricostruita che significa filo d'erba, stelo, germoglio. In senso lato quindi i Catubrini sarebbero coloro i quali sono germogliati, sono sbocciati, sono nati per la battaglia. E il collegamento che giunge immediato è con quelle bande guerriere delle quali abbiamo già parlato, che erano vettori di espansione e di diffusione della cultura celtica lateniana. Dobbiamo quindi immaginarci una banda guerriera di giovani galli carni che si allontana dalle proprie sedi, o per propria sponte, o forse sospinta da dinamiche interne, forse le stesse che hanno visto l'estendersi progressivo dell'influenza e dell'egemonia del Regno del Norico. Questi galli carni, giunti in Cadore, si presentano in maniera talmente tanto incisiva da riuscire a dare il proprio nome alla regione e alle genti che la abitavano. Ora però è importante sottolineare un fatto. Questa nuova venuta di genti celtiche, sicuramente più incisiva dei singoli che ritroviamo negli ex voto di Lagole, e che probabilmente va circostanziata alla seconda metà del III secolo a.C., non deve essere considerata comunque un qualcosa che provoca una totale sostituzione, assimilazione, cannibalizzazione della popolazione locale. E questo noi lo sappiamo per tutta una serie di particolari. Non ultimo il fatto, del quale abbiamo già discusso, di come in età romana a Monte Calvario ancora si scrivesse, e quindi conseguentemente si parlasse, in Venetico. Viene da sé che quindi l'elemento celtico non può aver completamente sostituito quello locale. Oltretutto c'è un altro aspetto da considerare. Gli elementi di arte e di cultura materiale celtica che ritroviamo in Cadore sono evidentemente frutto di una ricostruzione, riimmaginazione in chiave locale. Un esempio tra tutti gli elmi. Gli elmi celtici cadorini, se sicuramente appartengono in parte alla tipologia nota come celto italico, caratterizzata da un coppo appuntito e da paragnati di trilobate, altresì presentano dei particolari come il paranunca rivettato e l'apex particolarmente cuspidato, che sono evidentemente delle caratteristiche locali dettate dalla moda del posto, dal gusto locale. Quindi degli elementi celtici, ma che non sono semplicemente degli elementi di importazione o delle copie totali di elementi portati dalla Celtichè, ma qualcosa che è una rivisitazione locale dell'arte e della manifattura celtica. Una finezza, una curiosità relativa al nome dei Catubrini è che noi li ritroviamo, come abbiamo già detto, in poche epigrafi romane, ma dalla storia questo nome riecheggia anche nella leggenda, nello specifico nel ciclo leggendario delle Dolomiti, noto come il ciclo del Regno dei Fanes, raccolto e trascritto da Carl Felix Wolf. Wolf, nelle leggende dei Fanes che raccoglie e trascrive, tra i diversi popoli che partecipano alla Lega che si scaglia contro il Regno dei Fanes e lo distrugge, cita anche i Cadubrenes, e i Cadubrenes evidentemente sono una corruzione ladina di Catubrini. Ora bisogna ricordare però che tutte le leggende raccolte da Wolf per sua stessa ammissione sono passate per una ristrutturazione, per una rilettura e per un'operazione in parte artificiale. Si trattava di stralci, di leggende che erano spesso scollegate l'una dall'altra e per creare un quadro omogeneo Wolf fa un'operazione potremmo dire di tagli e cuci, quindi purtroppo noi non possiamo circostanziare cronologicamente e riconoscere cronologicamente le leggende narrate nel ciclo dei Fanes, anzi siamo certi che se certi elementi forse ammiccano a una realtà preromana, altri addirittura sono successivi e ammiccano al Medioevo, come le figure dei Latrones e degli Arimanni, che chiaramente sono collegate alla realtà Longobarda. In ogni caso però il nome dei Catubrini, nella forma ladina Cadubrenes, è presente nel ciclo dei Fanes. E per un attimo staccandomi dal tema della conferenza io consiglio chi non l'avesse letto di procurarsi il ciclo dei Fanes, o quello raccolto da Wolf, oppure quello reimmaginato, ricostruito da Bruna Maria del Lago Veneri, oppure ancora lo studio molto attento di Ulrike Kindl. In ogni caso si tratta di opere molto interessanti e il ciclo epico dei Fanes, secondo me, secondo il mio modesto parere, può essere veramente definito una sorta di Iliade delle Dolomiti. Tornando però al tema focale della discussione, dunque, com'era il Cadore preromano? Chi erano i Cadorini preromani, per non usare il termine Catubrini che ha una chiara connotazione celtica? Si trattava di popolazioni retiche, di popolazioni venetiche, di popolazioni celtiche, di un misto di queste popolazioni, di una sovrapposizione di questi elementi? Ora, in realtà, secondo me, la cosa importante quando si inquadra questa questione è, come detto proprio in apertura, cercare di cambiare prospettiva, di osservare il quadro da un'angolazione nuova. Quello di far coincidere cultura e nazione con etnia è un vizio mentale che abbiamo ereditato dalla seconda metà dell'Ottocento. Più si studia il mondo antico, affinando le nostre lenti interpretative, più ci si rende conto come la sua realtà fosse multiforme, mutevole. La ricerca di un'identità condivisa da parte di comunità limitrofe era un elemento necessario per riuscire ad ottenere una forza d'urto e una resistenza tale che rendesse la propria realtà concorrenziale con elementi che potevano giungere, che potevano presentarsi come ostili. Ma questo percorso che punta alla creazione di un'identità condivisa passa attraverso la condivisione di cultura, folclore, ritualità, lingua, moltissimi elementi da parte di comunità che potevano essere diverse. Noi questo lo vediamo in maniera lampante nell'ambito cadorino con gli elementi venetici, gli elementi celtici, elementi eretici e i santuari che fanno da punto di riferimento, da polo, da luogo dove gli elementi provenienti dalle diverse comunità si incontravano e si confrontavano, costruendo qualcosa in un processo che in realtà non è mai finito, ma che è costante e in continuo divenire. Noi realtà di questo tipo in realtà le troviamo in generale in tutto il mondo antico, allargando lo sguardo dal cadore alle realtà limitrofe, troviamo molte realtà di frizione dove elementi di culture, di etnie diverse entravano in contatto e costruivano qualcosa. Tra reti e celti noi vediamo come zona di frizione ad esempio la Val Camonica e la nascita di una face sculturale che è quella dei Camunni, che se sicuramente ha una fortissima impronta retica, dall'altro canto ha un'onomastica celtica. Quando il mondo retico si incontra in maniera propositiva con il mondo venetico noi troviamo una realtà come quella del gruppo Magret, che è sicuramente una realtà retica di nuovo, ma che è profondamente influenzata ancor di più della cultura di Fritz en San Zeno dagli elementi del mondo venetico. E infine se seguiamo il corso dell'Adige, che è una direttrice di penetrazione per i Celti, nello specifico per i Galli Scenomani, arriviamo a trovare delle evidenze archeologiche come quelle di Arquapetrarca che sono praticamente nel giardino di casa potremmo dire di Este, eppure sono realtà che sono propriamente celtiche, o che comunque sono fortemente connotate dall'elemento celtico. Ci ritroviamo dunque in un mondo dove diverse etnie, diversi elementi culturali concorrevano alla creazione di identità differenti, probabilmente molto spesso in chiave collaborativa. Al centro di questo quadro, che idealmente ho voluto presentare di Celti, Reti e Veneti, con le specifiche realtà di frizione, di contatto, realtà propositive come il gruppo Magret, come la realtà dei Camuni, ecco che troviamo il Cadore e i Cadorini e i Catubrini, perché se il nome Catubrini, come abbiamo detto, è appunto celtico, arriva a sottintendere una realtà che è debitrice di tutte le culture delle quali abbiamo parlato fino adesso, e che probabilmente non è nemmeno una amalgama di queste culture, ma una realtà che vede elementi di comunità diverse, comunità retiche, comunità venetiche, comunità celtiche, che si incontrano, discorrono e lavorano, condividendo progressivamente ritualità e elementi propri della cultura del folklore alla creazione di un'identità, un'identità che è quella cadorina. Termina qui questo excursus sul Cadore preromano, su Celti, Veneti e Reti nel Cadore preromano. Ringrazio ancora tantissimo il gruppo archeologico Cadorino e la magnifica comunità per l'opportunità offerta, e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.